iniziatevi, girate ma sono loro gli sposi o ne vietranno? ringrazio della vostra presenza oggi sono emozionati come lo vedete talmente emozionata lei che si è abbronzata tanto come me e sotto i vostri applausi ancora diamo un benvenuto a questi sposi un applauso ancora ok potete sedervi un applauso ancora Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.